Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra Calenzana e BV1 Variante in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Fipili, dove troviamo rallentamenti all'altezza di Firenze Scandicci, verso Firenze per traffico intenso. Per lavori questa notte in Fipili segnaliamo la chiusura della carreggiata tra Ponte d'Araove, Sponsacco e Ponte d'Araest, ancora una volta verso il capoluogo. Il provvedimento è in vigore dalle 22 alle 6. Ultima pagina per il traffico, aereo il volo Firenze-Francoforte delle 10.05, al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 12.10. Il volo Firenze-Bruxelles delle 11.45 alle 12.20. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!